buongiorno ragazzi eccoci qui ed eccomi tornato ho avuto 3-4 giorni di assenza perché vi spiego subito come ben saprete se avete visto i video insomma che ho caricato fino adesso sono stato a tarifa è stato un viaggio molto ma molto bello un viaggio dal quale appunto ho imparato molto soprattutto nella van life come meglio muoversi piuttosto che insomma altro allo stesso tempo un viaggio piuttosto stressante così di botto fare 5.000 chilometri e portare un veicolo del genere in un mese a 7.800 chilometri totali beh è un po eccessivo ma comunque l'ho voluto fare perché avevo promesso ai miei amici che comunque finita l'estate e la stagione sul lago di cade è finita la stagione sul lago di garda a fare continua a fare kitesurf ci dedicavamo a questa esperienza tarifa tarifa ovviamente uno degli sport più conosciuti al mondo per far kitesurf la allo stretto di gibilterra soffia praticamente sempre vento e vabbè niente abbiamo deciso comunque di andarci voglio essere di parola non era giusto dire no ragazzi non voglio più andarci ci siamo andati ci siamo anche da certi punti di vista divertiti assolutamente e per fortuna ma da altri punti di vista devo dire viaggio veramente stressante anche perché nel momento in cui due dei quattro miei amici ci hanno lasciati perché volevano fare altri giorni a tarifa però appunto io dovevo assolutamente tornare per motivi di lavoro beh mi sono praticamente fatto tutto il viaggio di ritorno e da verona a tarifa sono circa 22 ore tra le 22 e 24 vabbè considerando che poi io viaggio comunque switch ai 100 massimo 105 chilometri orari sono state quelle 22 barra 24 sono 26 ore in cui ho guidato praticamente solo io e fate 24 ore diviso tre giorni perché tre giorni ci sono serviti per tornare capirete che sono veramente tante 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 troppe ore al giorno di guida ma vabbè è stata comunque un'esperienza dal quale appunto come vi dicevo ho imparato molto e niente oggi sono qui perché voglio parlarvi del wrap sul mio veicolo mi sono affidato delle persone che sono super competenti e proprio per questo non riesco a capacitarmi di come sia possibile una cosa del genere adesso comunque entriamo nei dettagli vi faccio vedere secondo me quali sono gli errori che ho visto e che secondo me non possono essere fatti soprattutto da uno dei migliori wrappers qui se così si può dire un wrappers vabbè uno dei migliori wrappatori di macchine ok in zona a verona e tra l'altro per la cifra che gli ho lasciato ovvero praticamente 2000 euro bene aspettavo sicuramente un lavoro fatto meglio non voglio assolutamente fare cattiva pubblicità anche perché dopo vi spiego nei dettagli come sta andando tra me e i ragazzi che mi hanno frappato il il veicolo e da quel punto di vista nulla da dire quindi sono da una parte scontento perché non capisco come abbiamo fatto a fare una cosa del genere e dall'altra parte contento perché l'importante è chiarire e trovare una soluzione sempre detto questo qui come vedete abbiamo il mezzo e vi faccio subito vedere cosa c'è che non va questo van è stato acquistato che era praticamente non in pronta consegna ma già allestito da haimer l'allestimento esterno ovvero della carrozzeria era che appunto il colore semplicemente era bianco quindi era praticamente un ducato haimer 540 completamente bianco oltre alla colorazione che può dare il wrap da anche una specie di protezione visto comunque la pellicola ha uno spessore e viene utilizzata anche un minimo per proteggere il mezzo comunque detto questo adesso vi faccio vedere dove sono sconegli errori cioè non secondo me è ovvio che sia così l'avevo già visto quando ero andato a ritirare il mezzo però dovevo assolutamente partire per tariffa e quindi non avevo tempo per riportarglielo e far sistemare il tutto anche perché era una cosa che avevo già pianificato e loro lo sapevano quelli che mi hanno avroppato il mezzo prima però vi lascio qui il rendering di come il mezzo sarebbe dovuto uscire come vedete davanti c'è la parte bianca che vabbè qui nel rendering è un po' grigia però sarebbe il bianco dietro invece vedete queste linee asimmetriche quindi con un senso una regolarità questa cosa nel mio van beh non è stata proprio fatta bene la cosa bella ma allo stesso tempo brutta è che da distante vista il volo non si nota però se ci fate attenzione direi che è un lavoro svolto veramente ma veramente male eccoci qui allora come potrete vedere questo è il wrap esterno e partiamo dalla prima cosa che vi faccio notare allora come vedete le linee qui combaciano abbastanza bene appena ci muoviamo un po più a destra come vedrete le linee quindi quella lì e questa qui non combaciano fateci bene caso guardate come questi pezzi qua sotto sono più spostati verso destra rispetto a questi qua sopra quindi abbiamo delle linee che non combaciano proprio dritte per così ok abbiamo delle linee che sono praticamente spostate e come ben vedrete e se state attenti le linee non combaciano soprattutto guardate la penultima cioè questa qui è proprio irregolare questa qua la penultima questa inizia così dovrebbe scendere giù di qua ok è mezza spostata primo errore è appunto le linee che non combaciano dietro invece è perfetto perché è full wrap quindi non c'era modo di sbagliare sostanzialmente ok oltre alle linee che non combaciano soprattutto appunto la penultima abbiamo un errore proprio generico in adesso non sto qua a prendere il metro però posso assicurarvi che ho fatto appunto i calcoli col metro e lo spazio bianco che c'è qua ok non combaccia con lo spazio bianco con la misura di questa parte qua perché qui ci sono 15 centimetri da nero a nero e qui invece ce ne sono 18 e capite che sinceramente non non va affatto bene una cosa del genere quindi oltre al fatto che non ci siano le linee a combaciare ci sono pure gli spazi bianchi che qui partono con 15 centimetri qua partono vanno con 14 qui vanno con 15 per poi finire vabbè qua che è veramente anche a 13 centimetri secondo me guardate qui come inizia stretto e qua come e qua sotto come si allarga cioè vedete che c'è proprio non so come sembrerebbe veramente che la prima linea è quasi perfetta ma neanche troppo è perché se voi andate a notare qua ok qua sotto dovrebbe andare giù di qua e guardate quanto esposto c'è fa tipo così e poi qua così è proprio storto ma storto tanto e oltre a questo poi ovviamente alle righe che è uguale anche dall'altra perché potrei farvelo vedere anche da questa parte qui vediamo se si nota tipo guardate questa qui è perché adesso sono un po storto però guardate tipo questa qua come è stretta in cima quindi qua è stretta e qua guardate quanto è larga cioè è proprio storto allora io ho dedotto che il ragazzo che mi aveva fatto il wrap non so si era fumato un cannone per forza perché io ho visto i lavori che fa e sono fatti veramente bene allora o che mi ha sottovalutato ha detto ma questo qua è un col***o facciamogli un lavoro di merda o non mi spiego cioè non so voi cosa ne pensate di tutto questo magari se c'è qualcuno che fa wrap o conosce qualcuno che fa wrap non so ho speso praticamente 2000 euro per questa cosa qui ok e poi tralasciando tutti i dettagli adesso vi faccio vedere qui negli angoli si scolla cioè si è scollata però vabbè qua sopra è tagliata e si è scollata qua in mezzo è tagliata e si è scollata qui si creano tutte bolle e non si attacca per bene per bene non so se vedete le bolle anche qui guardate questo dettaglio qua cioè qui dovrebbero fare qua a parte che gli angoli si scolla ma vabbè guardate qui come è storta cioè guardate fa tipo le onde io non lo so magari sono io che non me ne intendo e boh non lo so qui poi è stato tagliato il wrap in mezzo cioè non so se vedete lo scalino la riga che non è questa qui del van è proprio qua a fianco c'è il taglio vabbè qua c'è sentito il rumore c'è proprio scollato quindi sostanzialmente questo è il wrap che mi sono trovato inizialmente non sembrava neanche male perché ho detto dalla fuga wow che figo guarda che è proprio bello e nelle foto magari voi non avrete neanche notato troppo tipo su instagram vi lascio anche qua i tag se volete seguirmi come vedete nelle foto magari non si nota ok però se io guardo cioè nel dettaglio dico cavolo c'è ste righe sono proprio storte e per i soldi che ho speso ripeto scone non è stato fatto un bel lavoro comunque concludo questo video dicendo ai ragazzi gli ho scritto e gli ho detto secondo me il wrap è stato fatto male ok gli ho inviato anche quindi tutte le foto dei dettagli e loro comunque mi hanno detto no no guarda qui c'è qualcosa che non va non è giusto che sia così e allo stesso tempo ci rendiamo conto che il lavoro è stato fatto male comunque detto questo ragazzi l'importante è che mi abbiano risposto e abbiano come si può dire confermato che il lavoro è stato fatto effettivamente male mi è bastato inviare una foto in cui tracciavo delle righe e anzi vi metto anche qui la foto e si nota proprio palesemente che le linee siano veramente storte e loro hanno ammesso le loro colpe insomma quindi mi va più che bene così mi hanno detto riportaci qui subito il mezzo appena poi che correggiamo subito quindi presumo che l'errore sia evidente e cosa dire speriamo che allo stesso tempo il 10 quando gli porto la il veicolo me lo riconsegnino il 12 barra 13 perché mi hanno detto che insomma in due tre giorni sistemano tutto e appunto spero che mi mi riconsegnino il veicolo come il wrap allineato le righe corrette le spaziature uniformi uguali per tutta la carrozzeria e spero appunto mi sistemino il tutto perché credo sia giusto così e gli errori sono evidenti e niente ci vediamo con il prossimo video in cui vi parlerò di quanto ho speso nel primo mese di van life ovvero dal 22 settembre al 22 di ottobre detto questo alla prossima